Eccoci qui con il grande mago che ha già vinto gli ottavi di finale, un bel risultato, 7-6 sulla coppia Martellini-Giallini, le impressioni del match? Ma è stato sicuramente un bel match, ma oggi vorrei parlare in particolare di un amico in campo e fuori dal campo, Adriano Martellini, che si è dimostrato di essere appunto un amico, un amico vero, onore al bombe, onore al giallino, onore al capo, onore al mago, grazie! Un applauso al mago!